Ma qui questo? La che fa bene La che è pesante Si è confuso tantissimo Ma hai visto? Hai visto cazzo? Ma qua qua Questa è successo? Questa è successo? Incazzi il confiato Sì, sono un po' lentini Però le cose le stanno fare Cazzo, guarda che 80 kg sono pesanti da muovere Attenzione Sul quadrato Area 6 Todi moto Angolo rosso Cosa piccola Angolo blu Si prepari per la finale 69 kg Viaggiotti Gianluca E Giacalone Alessio A seguire Area 6 Viaggiotti Giacomo Area 1 Area 1 Area 1 Da 23-15 anni Area 1 Da 23-15 anni Che? 8-15 E si inizia con i 13-15 Le squadre interessate Dimme Incazzi Ma com'è possibile che ci sia una differenza? Ma com'è possibile che ci sia una differenza? Gli ha bloccato un laterale, tra cazzo era! Era un'ascia, un'ascia! Eh, la solleva la camera! Ce la può fare a vincere però deve spingere un pochino! Sta vincendo qua! Si Stefano! Si! Porto Dante! Piacere che non ho poco al mondo! Cazzo, quella galla! Padese, tutto qua! Padese! Padese al podio, al podio! Fini che sei sotto! Vai Stefano! Sta vincendo di un pelino proprio No C'è, 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 c'è Questo è sul filo Vai Stefano Vai Stefano Scusate, la zucca Fira il caschetto, dai, cazzo Fira il tentorio Ti scivolava il caschetto Coppio 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 Coppio